Buongiorno a guardare ben io e farò tutti i pezzi miei stasera e iniziamo con un pezzo che si chiama Anza la prestazione che l'ho scritta in casa e sentirete un pezzo abbastanza ritmato possiamo iniziare P2 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 P3 P2 P3 P3 P2 P1 P2 P2 qualizzati a manetta sull'eviction della Rai e con i santi e papi morti, ammazzati, matti, ne adorate sotto questo caldo che brucia da dentro Sacre fuoco a un pianeta, le pezzi e lo sesso Ogni Gio a un viaggio sul caldo in atta e vola contro queste amministrazioni Ricrescere è difficile sotto questa società Andar via, perdone, non si sa Ricordarsi senza freno inquinare il mondo Con presunzione e ignoranza Le sue giorni che passano tristi e feroci In quei momenti in cui muori di vergogna Mutilmente, dolcemente Ogni giorno vieta Con una ragione contro questa meredità E crescere è difficile sotto questa società Andar via, perdone, non si sa Grazie a tutti 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 Grazie a tutti